27 vi manda in pulsa, vi manda in pulsa, è un problema, una piotta ai 10 così, terza marcia, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi, non ci sono problemi, vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli così, vada fratelli, ho sfornato tutto fratelli, ho sfornato tutto fratelli, ho preso il muro fratelli, ho preso il muro fratelli, te dico fermate fratelli, ho preso il muro fratelli, te dico fermate fratelli, ho preso il muro, ho preso il muro, ho preso il muro fratelli, ho preso il muro fratelli, ho preso il muro fratelli, eh si fratelli ho preso il muro, dai oggi dov'è andare così fratelli, oggi dov'è andare così, oggi dov'è andare così, ragazzi se mi siete salvati la diretta siete miardati fratelli no, fratelli ho preso il muro fratelli a presa il muro non ci sono problemi fratelli, asco di saco, si è erdito 727 così